Aggiornamenti sulle temperature Aggiornamenti sulle isole maggiori Per quanto riguarda le massime Saranno in leggero calo Tutto al centro Italia Ma comunque in diminuzione Con valori compresi tra i 21 e i 26 gradi Fino a 30 gradi al sud Entriamo insieme nel particolare della nord Italia Perché non mancheranno Tresidue piogge su Emilia Romagna Veneto e Friuli Venezia Giulia con tendenza a miglioramento Mentre sarà già asciutto altrove sin dal mattino Tenderà poi a peggiorare Tuttavia verso fine giornata Con acquazzoni e temporali A carattere sparso Andiamo al centro Italia Sarà una giornata caratterizzata da maltempo Con acquazzoni e temporali localmente Anche intensi come vedete Che saranno in scorrimento da nord a sud E poi migliora nel pomeriggio Dalla Toscana In estensione un po' ovunque Salvo ancora residui fenomeni sull'Abruzzo Per quanto riguarda il sud Italia Sarà tempo a tratti instabile Quindi anche qui Residua instabilità Più frequente su campagne e basso tirreno Anche se non mancheranno Momenti più asciutti e soleggiati Specialmente quelli sulla Sardegna Che a parte qualche fenomeno Sarà caratterizzata da bel tempo Aggiornamenti in tempo reale Sull'applicazione di Trebi Meteo Grazie a tutti